Quindi è un uomo che diventa più significativo e quindi richiede poi una pluralità di disponibilità per rendere significativa questa presenza. Per cui noi abbiamo dato questo indirizzo cinque anni fa consapevoli che le iniziative che erano nate a Bruxelles, a Velfa, a Venezia, che potevano dare l'impressione di una sciccheria di importazione, avevano in sé, per dire, un germe significativo perché predicavano, per dire, la gratuità, l'arte che si realizza, l'arte che diventa creativa. Queste cose sono state fatte e naturalmente hanno bisogno continuamente di essere aggiornate se vogliono diventare significative. Il fatto poi che coinvolgano prevalentemente i giovani, e diciamo la politica del Cerserie, è quella di creare le reti tra i giovani. In Lombardia si fanno le emersioni dell'associazionismo giovanile, noi invece che fare le emersioni, cioè, diciamo, lavoriamo con le realtà che ci sono, certo, promuovendole. E questo direi che è il dato più significativo, dicevo, poi, che riesce a realizzare un significativo utilizzo di un luogo che è la città, non solo è colorato col teo che attraversa la città, ma anche fisicamente sale e riscende, quasi fa capire quali sono le nostre intenzioni. Direi che questo è anche il segno che l'associazione poi che è nata, perché prima, diciamo, il CSV promuoveva quasi direttamente e questa iniziativa sembrava che noi ci distogliessimo i nostri fini istituzionali per dedicarci a un piccolo carnevale che non è l'ora. anche se coincide con la fine della scuola, con l'inizio dell'estate, ben vinto, cioè tutti questi sono significati e significante non voglio rifiutare.